Ciao a tutti, ecco a voi Aaron lo sgagnatore, continua a mordere, penso che sia per colpa dei dentini, se avete consigli, anzi lasciatemeli qua sotto, quindi ci tenevo a presentarmelo, è nuovo arrivato in famiglia, ovviamente adesso lui vuole andare a giocare, quindi lo accontentiamo, vero Aaron? Aia che fai sempre più male con i cusci dentini, mi mancia anche i capelli, vabbè dai, ti lascio giù, vai a giocare. Però ci tenevo a dirvi una cosa, se adottate un animale ricordatevi che lui farà parte della vostra vita, quindi pensateci, è un impegno, un bellissimo impegno però sicuramente vi dà da fare, perché il signorino si sveglia anche di notte, quindi sì, pensateci bene, perché poi devono restare con voi. E con questo è veramente tutto, io vi saluto e vado a giocare con Aaron. Ciao!